Se uno è deciso ad adottare un cane o un gatto deve essere per sempre, non ci sono scuse, il lavoro, la casa, le vacanze, la famiglia, bisogna fare un'adozione consapevole. Basta scusa, se abbandoni un animale il problema sei tu. E' questo il claim scelto per la campagna 2024 di Empa che torna a puntare l'attenzione sulla piega degli abbandoni di frequente estivi ma non solo degli animali da compagnia. La situazione al canile di Arezzo è emergenziale, in questo caso soprattutto per gli abbandoni di cucciolate e di gattini che vengono portati alla struttura. Non abbiamo mai avuto così tanti gattini in un recinto insieme perché noi solitamente i gatti li teniamo in quarantena in delle gabbie dove completano tutta la profilassi vaccinali e poi li mettiamo nel recinto insieme a altre cucciolate perché tanto sono tutti sani, vaccinati, sverminati. Però così tanti insieme, ora al momento sono 12, noi li prendiamo, li accogliamo ovviamente fino a che abbiamo posto perché se non abbiamo adozioni, i gatti non escono, noi non possiamo prendere nuovi gatti. Questi infine consigli di Empa se si assiste ad un abbandono di un animale. In caso di animale abbandonato chiamate, contattate il cane, ovviamente trovate un cane per strada, si interviene, si controlla se ha il microchip o no, si ritrova la sua famiglia se l'avesse. Per i gatti la situazione è più complicata perché comunque i gatti sono animali considerati randagi per legge, quindi non c'è l'obbligo di microchip e ovviamente è più difficile ritrovare una famiglia se ce l'avevano o no. Il microchip è stato fondamentale per i cani, potrebbe essere una soluzione anche per i gatti? Sì, anche per i gatti aiuterebbe molto, poi c'è una gran parte di gatti che sono randagi, selvatici, forastici, che quindi una famiglia non ce l'hanno e ovviamente lì è anche difficile la sterilizzazione e controllare le nascite perché non essendoci un proprietario, però piano piano ci si prova.